Buongiorno e ben ritrovati, oggi è venerdì 15 di luglio, anche se non sembra guardare fuori dalla finestra, ma ce lo aspettavamo questo maltempo, sembra una giornata di ottobre novembre, pieno inverno, insomma anche per le temperature che vedremo tra poco sono scese davvero tanto, questa è la resegna stampa, dicevo, vediamo il santo, poi le previsioni e i giornali con i titoli delle notizie sul Corriere e sul resto del carino, cominciamo dal santo di oggi, oggi è San Buonaventura, San Buonaventura è stato un vescovo, il nome di Battesimo è Giovanni di Fidanza, nacque a Civita di Bagnoreggio verso il 1217, allora adesso il sole è sorto alle 5.39, tramontare alle 20.49 minuti, dicevo guardiamo il tempo, andiamo a vedere però prima delle previsioni della protezione civile delle marche, qui si sta aprendo, vedete il nostro sito internet occhialanotizia.it, velocemente andiamo qua giù, vedete c'è il bottone con la scritta meteo e qui teoricamente ecco qua si apre la pagina con i dati in tempo reale della nostra stazione meteorologica con i dati aggiornati in questo caso alle 7.31. Allora vediamo subito, la temperatura vedete è caduta, è scesa in picchiata, a quest'ora più o meno erano 27, 28, 29 gradi nei giorni scorsi, oggi siamo a 16 gradi, quasi 17 gradi, quindi uscite ben coperti perché insomma è freschino. Vedete la pioggia già da mezzanotte perché la centralina poi e i dati si aggiornano da mezzanotte a un minuto, già 19 mm di pioggia che insomma è una pioggia moderata che sta intensificandosi in questi minuti e continuerà a piovere ancora per diverse ore. Non c'è vento ancora e speriamo che resti così. Poi per quanto riguarda gli altri dati vedete c'è la fotografia e c'è il satellite, siamo proprio nel bel mezzo del ciclone con tante nuvole proprio sopra la nostra regione che poi nel corso della giornata nuvole scenderanno verso l'Abruzzo. Ecco la situazione, queste sono le, questa è l'immagine di uno scorcio della città di Fano presa dalla nostra telecamera. Il tempo dicevamo per oggi con le previsioni, piogge con precipitazioni diffuse insomma a prevalente carattere di rovescio temporale anche di forte intensità, più abbondanti nel settore centro meridionale della regione dove più tardi appunto quando scenderà verso sud questa perturbazione pare si rafforzare ancora di più, scenderà, cadrà ancora più pioggia, le temperature sono in diminuzione. Per domani continuerà un po' nella prima parte della mattinata a schiarirsi il tempo, schiarite sempre più ampie tra la mattinata e il pomeriggio ad iniziare dal pesarese, le precipitazioni saranno sparse nel settore centro meridionale poi in graduale attenuazione, le temperature cominceranno poi a salire. Per domenica, domenica 17 di luglio il tempo migliora, vedete solo qualche residua nuvolosità, le temperature in aumento, i venti saranno moderati settentrionali. Almeno fino a metà della prossima settimana il tempo sulle Marche comunque si manterrà sostanzialmente stabile con temperature in graduale rialzo. Pioveva mentre un capannone all'azienda Profilglasser di Bellocchi di Fano andava a fuoco ed è stato un grande incendio, ma la pioggia non è servito a nulla, anzi ci è voluto l'intervento di quasi una trentina di vigili del fuoco provenienti da diversi distaccamenti, addirittura da Ancona, Senigallia, Cagli, Pesaro, Fano, insomma tanti uomini per spegnere e scongiurare il peggio all'interno dell'azienda Profilglasser. Di questo si parla per esempio sulla pagina di Fano del resto del Carlino. Fiammata, ecco le immagini, fiammata dal laminatoio inferno alla Profilglasser di Bellocchi. Torna la paura, divorati 2.500 metri di fabbricato, danni milionari. Sul posto 26 uomini con 4 autobotti, 2 autoscale, altri 2 carri di schiuma. Inquinamento nullo ma è già polemica, analisi al via e il comitato torna alla carica. Questa è la pagina di Fano del resto del Carlino. Poi andiamo su Pesaro, la moglie di Sinisa, ricorderete, abbiamo parlato nei giorni scorsi di questo uomo conosciutissimo perché chiedeva le lemosine, viveva in una macchina, in un'auto parcheggiata dentro una vecchia Ford senza il braccio sinistro, amputato, mutilato di guerra. Stava in via Solferino, chiedeva qualche spicciolo con il suo berretto. Insomma adesso è morto, c'è stata una grande gara di solidarietà per questo serbo, il serbo del semaforo e la moglie di Sinisa, questo è il suo nome, lo riporterà a casa. C'è stata, come dicevo, questa gara di solidarietà e quindi sono stati raccolti dei soldi, raccolti 3 mila euro in un paio di settimane, quindi insomma era molto conosciuto in città questo uomo e quindi adesso lo stanno aiutando per l'ultimo viaggio. E c'è stato un ultimo saluto anche per il sedicenne che ha negato domenica mentre stava facendo un'immersione, era con la famiglia a largo vicino alla piattaforma, a largo di Pesaro, loro sono di Rimini, è morto purtroppo per un malore, il padre pensate è sceso fino a 25 metri con tutta la forza che può avere un padre che non vede risalire un figlio, riemergere un figlio dall'acqua, è sceso giù e lo ha andato a prendere quando lo ha trovato in fondo al mare esanime. Con tutta la forza l'ha riportato su e però non c'è stato niente da fare, è morto in ospedale e ieri c'è stato il funerale. Sei stato il mio primo amore, dice la fidanzatina, poi le testimonianze, le parole alla fine della messa del funerale del papà e della mamma, parole davvero struggenti. E poi l'esercito della fede, coloro che partiranno per la giornata mondiale della gioventù che si terrà a Cracovia, noi portatori di pace, questo è il titolo, verso la giornata mondiale della gioventù sono 113 giovani di Pesaro, una cinquantina da Urbino e più o meno 120 da Fano, tutti sotto un solo vessillo, la chiesa. Eccoli, scrive Giorgio Guidelli questa mattina sul resto del calino, eccoli gli innamorati di Gesù in partenza per la giornata mondiale che si terrà dal 25 luglio al 2 di agosto. E speriamo che tra questi 113 più 50 più 120, fate voi una botta di conti, che ci sia almeno una persona che sia talmente innamorata da dedicargli la vita, perché parliamo qui della crisi purtroppo delle vocazioni, crisi molto pesante nella nostra, è un po' nelle diocesi tutta Italia, ma anche nella nostra. Ecco, speriamo, questi per esempio, questi tre giovani andranno in bicicletta, tutto bello, tutto meraviglioso, andranno ad incontrare Dio, scrive il giornale, scrive il titolista, ecco, in tre pedaleranno per 1300 chilometri verso la meta, però speriamo che questo serva anche a far crescere e a maturare un amore forte verso Dio e quindi a scegliere di dedicargli tutta la vita. Poi andiamo sull'altra pagina di Fano del resto del calino, vedete più vigili e controlli, ecco dove agiremo, dalle soste selvagge all'abusivismo, il comandante Giorgio Fuligno traccia la roadmap, parla poi anche dei 12 agenti che sono stati aggiunti per la stagione estiva, è stata attivata anche una pattuglia notturna e ci sono anche in funzione le nuove telecamere che qualcuno probabilmente avrà notato nei punti più critici, come per esempio la stazione dei treni. Poi abbiamo parlato dell'incendio che è stato domato soltanto ieri mattina, poi nel pomeriggio i vigili sono stati impegnati di nuovo a Falcineto, un quartiere vicino Fano, nell'Interland fanese, è andata a fuoco una camera da letto, lei non si accorge, è stata salvata dal figlio, c'è stata un po' di paura, Falcineto è stata ricoverata una donna di 65 anni per lo spavento, crollato anche un sottotetto. E poi sul Carlino gli amanti del liscio conosceranno sicuramente questo nome, Edgardo Gelli, Edgardo Gelli è di Fermignano e adesso Raul Casadei che si incontrerà a Cervia per un concerto revival che di solito si fa tutti gli anni, ecco sul palco Raul Casadei vuole Edgardo Gelli, lo vediamo nella fotografia, guardate, eccolo che succede, eccolo qua. E questo è Edgardo Gelli che tiene un premio probabilmente per i 60 anni di musica e quant'altro. Ecco, Edgardo Gelli ha 82 anni, gli amanti del liscio sicuramente lo ricorderanno, sul palco con Casadei per la storica Reunion, Raul vuole me, la voce della Romagna per la notte del liscio che si terrà giovedì 21 luglio appunto a Cervia. È una seratona di quelle proprio che gli amanti del liscio non mancano mai, alla quale non mancano mai di partecipare. Apriamo adesso il Corriere Adriatico, la pagina, l'edizione di Pesaro, eccola qui, si parla di Coppa Davis che la festa cominci, la prima sfida è la viabilità, l'esordio con l'incognita maltempo, mette a rischio il match e il piano del traffico. Mentre sulla questione degli operatori balneari l'Europa crea il caos sulle spiagge cancellate dall'Unione Europea, le proroghe delle concessioni fino al 2020, i bagnini sono in rivolta. Il sindacato degli operatori dice presi in giro ormai da dieci anni. Entriamo velocemente sulle sulle pagine interne del Corriere Adriatico, vedete qui oggi si torna a parlare, il Corriere è stato il primo quotidiano a portare in evidenza la problematica delle auto in sosta lungo la statale 16 Adriatica tra Fano e Pesaro dove migliaia di macchine, centinaia di macchine parcheggiano soprattutto nel fine settimana per andare a prendere il sole e fare un bagno al mare. Il problema è che ci sono sì le spiagge, ci sono le concessioni, sono state date ma non ci sono i parcheggi e dunque il prefetto l'altro giorno ha chiesto un giro di vite per una questione di sicurezza, ieri già sono scattate le prime multe e da domani pugno duro di polizia stradale e vigili urbani. L'ANA si invita a installare dissuasori e luci. Questa è la notizia che troverete sulla pagina 2 e 3 del Corriere Adriatico e sempre rimanendo in mare la cronaca ci riporta ad un episodio dove per fortuna tutto è andato bene di un bambino che è stato salvato mentre stava facendo il bagno con il mare mosso. È stato determinante un intervento degli angeli della Vallugola a rischio anche altri due bagnanti, quindi visto che ci sono anche molti turisti che ci ascoltano, insomma un po' come la montagna, quando noi del mare andiamo in montagna spesso l'affrontiamo così senza sapere tanto. Il mare è la stessa cosa, bisogna conoscerlo così come bisogna conoscere la montagna e non fare troppo gli spavaldi perché poi dopo ci si lascia le penne. La pagina di Fano del Corriere Adriatico, anche qui in evidenza la profilglas con l'inferno della notte, l'incendio con le fotografie. 2500 metri quadrati dell'azienda Bellocchi sono andati in fumo mentre gli operai erano impegnati nel lavoro e il rogo si è sprigionato in via Meda da una laminatrice. Sono intervenuti dieci mezzi dei vigili del fuoco. L'imponente colonna di fumo ha preoccupato i residenti della zona, presenti anche i tecnici dell'ARPAM. E poi sul referendum avanti tutta, ma c'è il muro dello statuto, procedura anomala per una colpevole amnesia, l'impegno di Seri per il voto. Chiaramente stiamo parlando del referendum sull'ospedale unico. Fiamme in camera da letto, donna rimane intossicata, incendio in via Falcineto, l'allarme dato dai vicini, la casa dichiarata adesso inagibile. Aset, Del Vecchio e Santorelli non mollano, i due consiglieri tornano a chiedere i documenti sulla scelta dell'advisor. E poi musica e balli, siamo sempre sulle pagine di Fano del Corriere Adriatico, musica e balli da altri tempi, a Torrette scatta revival, il lungomare è pronto a ospitare concerti, mostre e raduni d'auto d'epoca. Sulla pagina della Val Cesano, del Corriere, sul maltempo i problemi cronici, quelli di sempre, Bagnini, Raggio di Sole, Cercasi, associazione al lavoro per la difesa della costa e la creazione dei parcheggi. Zenobi in tour nelle aziende, c'è crisi ma sono ottimista, il sindaco, l'impresa Alluflon è in difficoltà, ora fanno ricorso alle ferie. La pagina di Senigallia, siamo in chiusura, la vita in barca di Alessandro, la storia di questa persona, Alessandro Tricarico, che ama, dice, il mare e sono libero. A 25 anni è la residenza nella Darsena, farò il musicista in giro per il mondo, quindi la barca è di fatto la sua casa. E poi butta fuori contro i vandali, i residenti si affidano, siamo sempre a Senigallia, la Movida che sta creando problemi nella città della spiaggia di Velluto, i residenti si affidano ai vigilantes per scoraggiare i blitz ed evitare i danni, telecamere e guardie notturne proteggono invece gli stabilimenti balneari. Allora, noi ci fermiamo qui, no, andiamo sulla pagina di difesa della provincia perché c'è un'ultima notizia che riguarda un sacerdote, un sacerdote che ha agito come Don Matteo, il famoso sacerdote della serie televisiva. Il parroco, stiamo parlando di Don Michele Rossini, della parrocchia di Santa Veneranda, ieri mattina mentre stava celebrando messa a un certo punto si è accorto, vedete Michele Rossini, il sacerdote vedete in questa fotografia, si è accorto che c'era un uomo che era troppo fedele alla cassetta delle lemosi, insomma, è chinato su questa cassetta non per pregare ma evidentemente per sbirciare, per manovrare dentro qualche cosa. Se ne è accorto e poi Gianluca Murgia racconta tutta la storia di come è andata sul Corriere Adriatico di questa lantina. Noi invece ci fermiamo qui, siamo pronti a raccontarvi la giornata che si è appena aperta e per sapere che cosa è accaduto vi do appuntamento questa sera alle 20.30 nel nostro telegiornale. Occhio alla notizia, arrivederci. Grazie a tutti.